andiamo a casa del generale adesso ci sta non so dove è buttato ho buttato qua figlio è cieco eh lo dico subito dammi i soldini Nicola per comprare un attacco grappolo se riesco no no predisco parlamento di precisione ah cazzo mi vado in giro ricco ha perso le vostre trecce siete al sicuro per comprare ancora un altro se volete chi è? mi guarda che c'è i soldi ah io voglio arrivare alla fine mi si fa storsi alla casa del generale no oddio sono senza munizioni a ciechino mi fa corso questo io sono sul tetto venite sul tetto c'è un andiamo alla casa stiamo andando alla casa però se magari si passa al tetto è la meglio insomma giù porta oh c'è gente qua davanti non è passato lì ho trovato l'unizione del aiuto entra dentro leo no sono qua dentro mi sembra ok diamo a scatto io mi tiro su ma porco arrivo 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 cazzo calma calma con calma se si va in quella casa lì stavo arrivando in quella casa lì il mio problema è che ho è che sono senza munizioni a ciechino ne restano 25 stai andando quando vuoi sbagli ma che c'è ancora gente ragazzi è vero è qua dentro tira su lui dai parca madonna vabbè no vada fuori dalla finestra ma sei stronzo però è lea ma che c'entra lì ma sei fuori dalla finestra ma non da facciare steso dai ma che sa faccio ma sei fuori è arrivava da dietro e va sul piano terra mi piace affacciato coprivi un attimo provo a raccogliere la sua roba però state qua a guardarmi la roba che avanza porcosina ok stiamo uniti andiamo alla casa? lea però vai alla casa e si è partito lui butto stronzo arriva da solo è arrivato anche a te perché mi seguiva eh si però meno male perchè sono tantissimi lice booby ma che cazzo ha questo chi è ma col booby? anche a me mi ha invitato anche a me mi ha invitato anche a me mi ha invitato e che ha raccolto il mio bombardamento di precisione io no fucile di precisione io no era lì arriva in cazzo arriva in cazzo anti soldi cazzo munizioni rpg bisogna ragazzi se ando cambieranno veloce non tre io però devi venire a prenderteli te le lascio qua te le lascio non te le porti ah tu sei sotto stai sotto a morire va bene dai dammi dai devo salire vi ho incontro i colpi per lanciatore qui dai che voglio uscire grazie eh ci chiamiamo qualche stum con l'altra tutta 5 colpi per lanciatore marcati sto sotto per presente sei più progetti si grazie mille io c'ho tre coraglie stiamo su Ciccio, vieni qualcuno, altrimenti tu stai sotto e non ha senso Lo so, ha ragione Anche perché sta ragione, giunto il centro se è lì pericoloso Perché non muoiano? È quasi meglio fuggire a salto, puttana Eva A meno che non gli spacchi te, Jack Quando scendiamo dalla collina, che saranno tutti lì Io non mi ho messo sparare adesso No, adesso no, 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 quando scenderemo da qua Orca troia, che sfiga, io so Che ti manca? Ci dirà meglio di tutti Orca troia, credo No, non è vero E andare giù e tenere due ore è una battaglia Sono entrati in casa, Nicola Io ce l'ho In qua sono entrati in casa Sì La cosa non reagisci quando te lo diciamo le cose Una mina Questa oggetto che non senti un cazzo con le tue cuffie tu Che è arrivano a figliarci? Eh, certo Ti ero mandato a una ferra di... Un filmista rivisto mi... No, che babbo! Cioè, qui sono? È venuto Che è successo? Dove sei? Eh, sono sotto Aspetta che provo a salire Ma stuprato Che babbo di minchia che sono mamma A parte non ti inventerò No Allora abbiamo sotto abbiamo un terzo dei nostri competti Come fa a non morire questo? Come fa a non morire? Come fa a non morire? Ma come fa? Da dove? Ma da dove? Da dove? Da dove? Diò merdoso Sparato in faccia col DMR Sentite, io butto il bombardamento qua sotto E scendiamo da sinistra? Quando arriva il gas Ma guardo... No, ma adesso No, no, cazzo Me lo sono sparato qua Sono un coglione Scendete Mi hanno messi due a terra ragazzi Non so come Dove sì Avete idea di dove siano? Pingami un posto Perché io non ho troppo bombardamento A terra, a terra qua Attenzione Sparato in faccia Che cosa succede? Tedeschi di merda Cazzo Sono qua dentro, nella casetta Arrivo, arrivo, arrivo Dove? Sono proprio qua dentro, sulle scale Ma ovviamente c'è gente qua davanti Quanti siamo? Sette Questo lancia razzi Non c'è razzi Non c'è razzi C'è munizione di mana Avete del gas in arrivo E' che non vedo nessuno, Jack Lì è Sto andando giù al mare Siamo nella zona sicura Pronti a difenderci So dietro di noi per forza Dalla parte della prigione No, lì dove c'era Jack Sembra che c'era gente Adesso arriveranno Vedete le tendine pure Ssss 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 Arriva di fianco Di fianco a sinistra Guardatemi Merda però Ve l'ho detto Erano in due Potete sparare Terra 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 Raga però Lavoriamo su certi direzioni Perché c'è otto minuti OHHHHHHHHH Ssss Ss Ss Ma perché vai a far l'eroe? Ma perché vai a far l'eroe? Ma perché Perché a terra Ma non è terra la di Jack La mentoria eh Ma non è terra Non è vero Non è vero Non è vero tu ho detto era a terra e infatti era a terra però lo stavano rimando era già morto scappa 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 che ho camionato e guarda che mi partito non da solo porco di via e ho voluto push'a pensavo fosse fosse due basta ho detto push'o in effetti c'era una terra dai 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 forza forza ora si vince dai fuori tutti ma si a me mi garba così ok 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 oh io stacco ah sta qui? ah si si ma lei l'ha fatta? si è andato via? eh si era incazzato perchè si è incazzato? beh eh eh due ore che cristiamo tutti e due vieni ci vieni è andato via? ci sbocca sta roba va bene ma è così poi si trattada e poi una la vinci cioè non è che il bello di Alcatraz si gioiava anche a Call of Duty 4 da OIA vero? beh sicuramente lo vedi con noi merda vado anch'io ciao 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 topolo dai va a fare qualcosa dai rompe il coglione dai vai su vai su vai su a giocare l'ego vai vai e dai muoviti vai hai fatta la merenda? si vai vai ma perchè vai 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 ce ci 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 ci